Opera realizzata sul demanio marittimo priva di concessione, di collaudo, concessioni catastali e con gli apparati di sicurezza fuori norma e la motivazione con la quale la guardia costiera di Vibo ha proceduto al sequestro del porto di San Lucido. Il blitz disposto dal tribunale di Paola su richiesta della procura della città del Tirreno, un sequestro preventivo, quello autorizzato dal giudice delle indagini preliminari. Due le persone finite sotto inchiesta, 53 le abarcazioni tra cui 5 pescarecci della marineria locale che dovranno lasciare gli ormeggi nella rada. I proprietari dei natanti da di porto e gli armatori dei motopesca hanno 15 giorni per ottemperare all'ordinanza di sgombero del porto. Nel mirino degli inquirenti anche una serie di interventi realizzati negli anni senza le dovute autorizzazioni nell'area di attracco, in parte utilizzando, secondo gli inquirenti, le barriere soffolte messe a protezione del porto. Grazie a tutti.